Buona serata, nuovo appuntamento con l'informazione di Telestense. Oggi 15 settembre, primo giorno di scuola in Emilia Romagna. Sentiremo come è andato questo esordio, chiamiamolo in questo modo, ma parleremo anche di politica, conosceremo ancora altri due candidati, di quelli appunto presenti per le elezioni del 25 settembre, ovviamente inerenti al nostro territorio. Vi racconteremo anche di CNA in festa, si è tenuta ieri sera, le donne grandi protagoniste, vedremo come. E andremo anche ad Argenta, oggi una conferenza all'ospedale per parlare dei primi lavori al pronto soccorso con interventi del PNRR. E poi ancora domenica ci sarà l'apertura appunto della giornata europea della cultura ebraica, che avrà Ferrara come città protagonista e poi ancora domani al barco la festa dei vicini. Cominciamo però purtroppo con una drammatica notizia, tragedia al barco, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo una partita a calcetto. Antonio Salerno, questo è il nome del giovane che abitava a Ponte Lago Scuro e studiava all'Università di Ferrara, aveva accusato qualche dolore al petto al termine dell'incontro, ma non sembrava nulla di grave, tanto ad avviarsi a piedi verso casa. Dopo poco il 23enne si è accasciato al suolo ed è stato immediato l'intervento del 118, che ha tentato una corsa verso il Sant'Anna di Cona. Il ragazzo però tuttavia era già deceduto. Profondo lutto della famiglia e dei tanti amici, che lo saluteranno lunedì 19 settembre, quando si terrà il funerale. E adesso cambiamo argomento, entriamo nella pagina dedicata alla politica. Conosciamo dunque ancora una volta alcuni candidati delle elezioni del 25 settembre. Cominciamo ad Antonio Fiorentini, candidato PD al Senato nel collegio plurinominale Emilia Romagna 02, con cui abbiamo parlato delle difficoltà economiche di questo periodo e anche di parità di genere. Sentiamo. Partiamo da un argomento di attualità, che è quello della situazione economica, del caro Bollette, dei costi che sono schizzati alle stelle. Nel caso lei venisse eletto, qual è l'idea anche del Partito Democratico riguardo a questo argomento di attualità che tocca a tutti i ferraresi, ma anche tutti gli italiani? Va subito stigmatizzata la situazione, ovvero oggi siamo nella condizione nella quale il governo più autorevole che l'Italia ha avuto negli ultimi 70 anni è stato mandato a casa dalla destra, che peraltro si definisce patriottica. Questo non ha nulla a che fare col patriottismo. Perché lo sottolineo? Perché è il momento di grandissima difficoltà, pari e forse più grave rispetto alla situazione delle famiglie e l'economia di quanto abbiamo vissuto nel Covid. La difficoltà per affrontarlo dipende anche dal fatto che è stato mandato a casa il governo da una destra irresponsabile, di cui le conseguenze, va detto, oggi le pagano le famiglie e le imprese. Detto questo, bisogna intervenire con rapidità, in modo incisivo, per dare un aiuto, per fare in modo di superare questa difficoltà enorme che dipende in particolare dalla crisi energetica e quindi dal moltiplicarci dei costi per famiglie e imprese, alle quali proprio oggi, in questi giorni, il governo dovrebbe riuscire a dare una risposta attraverso dei contributi diretti per famiglie e per imprese. Noi siamo su quella linea. Ecco, si sta appunto parlando anche di diritti, di diritti delle donne, in questa campagna elettorale ci sono ancora alcuni gap da colmare, secondo lei, per riguardo alle donne, il futuro delle donne in Italia, cosa si può fare? Purtroppo, di questo me ne vergogno, l'Italia è ancora un paese che è impostato sull'idea del maschio adulto, così ha dei passi se ne stanno facendo, è intollerabile, è impensabile, bisogna che ci confrontiamo con questo e anche con altri, con i paesi del nord Europa ed è intollerabile che le donne oggi siano una condizione per le quali rispetto al mondo del lavoro facciano più fatica a fare carriera, prendano in media il 30% in meno e in alcuni casi siano anche discriminate. Ecco, non è un contesto da paese, mi viene a dire, da paese civile, certamente non moderno. Quindi c'è da un lato l'aspetto culturale, bisogna rompere questo muro che è una cosa retrograda e intollerabile, dall'altro invece ci sono delle politiche che si possono adottare per accompagnare questa fase di transizione, in grande ritardo, in modo tale che le donne siano messe nella condizione di giocarsi al pari dei colleghi uomini. E le stesse domande sono state poste anche ad Alberto Balboni, candidato di Fratelli d'Italia al Senato nell'Uni nominale e capolista del proporzionale. Lo sentiamo. Che soluzioni proponete, soprattutto agli imprenditori ma anche ai privati cittadini che si ritrovano delle bollette stratosferiche? Il tema è ovviamente molto difficile, noi abbiamo sostenuto la proposta del governo Draghi, fatta già parecchi mesi fa, affinché l'Europa decidesse un prezzo massimo oltre il quale non era disposta a comprare il gas. La seconda misura, ancora più importante, è quella di sganciare il costo dell'energia dal costo del gas, perché come voi sapete tutta l'energia viene pagata in base al prezzo marginale dell'energia prodotta col gas. Se noi sganciassimo questi automatismi, già questo consentirebbe una riduzione piuttosto consistente della bolletta, sia per le famiglie che per le imprese e poi occorrono aiuti immediati. Noi proponiamo di investire 3-4 miliardi subito, da subito, la Meloni, Giorgia Meloni ha chiesto alle principali forze politiche di vedersi in Parlamento per studiare questa soluzione, 3-4 miliardi che sono disponibili per abbattere le bollette, soprattutto per le imprese che sono in difficoltà, perché noi rischiamo davvero che andando avanti così, fra poche settimane molte imprese chiudono, perché non ce la fanno più. Allora, parliamo anche di parità di genere. Voi avete un leader donna, per cui Fratelli d'Italia sicuramente è un'eccezione da questo punto di vista. Lei trova però che le donne in Italia, nel mondo del lavoro, siano ancora discriminate? Ci vuole un passo in più da questo punto di vista? Io penso di sì. Penso che più che discriminate le donne siano svantaggiate, nel senso che molto spesso una donna non riesce a conciliare i tempi e le esigenze e le richieste del lavoro con i tempi e le richieste dell'essere donna e soprattutto di essere madre, per cui una donna troppo spesso è posta di fronte all'alternativa se coltivare le proprie ambizioni giuste e legittime nel mondo del lavoro o rinunciare in tutto e in parte a quelle ambizioni per dedicarsi ai figli. Siccome il futuro sono i figli, noi abbiamo nel nostro programma un capitolo molto vasto per sostenere la maternità, per sostenere i servizi. Ecco, questo punto un estratto di due interviste, vi ricordo però che queste e altre interviste in versione integrale le trovate su telesenso.it e sul nostro canale YouTube. Adesso invece parliamo del primo giorno di scuola in Emilia Romagna, proprio oggi 15 settembre, sentiamo quindi alcuni dati a riguardo. Giovedì 15 settembre è la data che vede il ritorno a scuola degli studenti Emiliano Romagnoli. Sono circa 540.000 i bambini e ragazzi del nostro territorio pronti per affrontare un anno scolastico di cui la regione ha reso noto gli investimenti. Oltre 800 milioni per l'edilizia scolastica, 60 milioni per abbattere liste d'attesa e rette per nidi e materne, oltre 20.000 borse di studio per un importo di 2,2 milioni di euro, bus e treni gratuiti per gli under 14, mentre per gli under 19, secondo un Iese familiare anno, entro i 30.000 euro. Infine, investimenti anche per la formazione professionale. Il tasso di abbandono scolastico in Emilia Romagna è in netto calo, passato dal 13,2% del 2014 al 9,9% del 2021, ben al di sotto della media nazionale del 12,7% e in linea con l'obiettivo europeo del 10%. Intanto sono arrivati gli auguri a tutti gli studenti anche dalle istituzioni della città, con un messaggio del sindaco Alan Fabri ed una lettera dell'assessore alla pubblica istruzione, Dorota Kusiak. Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale e quest'anno lo è ancora di più, ha dichiarato. È un primo giorno caratterizzato da un'atmosfera particolarmente gioiosa e festosa e dalla voglia di tornare alla normalità dopo anni difficili. L'assessore ha augurato un buon inizio e un proficuo lavoro per il nuovo anno scolastico 2022-2023 a tutti gli studenti, i familiari, i dirigenti scolastici, a tutti i docenti e al personale coinvolto nel funzionamento dei plessi e delle strutture scolastiche. E adesso parliamo di un nuovo modo di fare impresa capace di coniugare sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, parità di genere e capacità di guardare al futuro. Si chiama Progetto EcoCid, nasce dall'impegno delle donne imprenditrici e del cuore dell'edizione 2022 di CNA in Festa, manifestazione annuale di CNA Ferrara che quest'anno si è tenuta nella corte di Casa Romei. Sentiamo le interviste. CNA in Festa oggi è una giornata speciale per l'associazione con un focus, un'ottica verso le imprese femminili e il ruolo della donna nella società. Sono molto presenti le donne nell'artigianato, sono molto presenti nell'artigianato ferrarese e stanno dando un impulso straordinario di attività, di idee, di impegno. E' la dimostrazione che necessita assolutamente avere e avviare e dare tutte le potenzialità possibili a persone che fino a oggi ancora hanno qualche difficoltà. Libere di potersi esprimere, danno dei punti a tutti. CNA in Festa è il nostro momento di incontro fra di noi, di presentarci, di raccontarci e di vivere un momento insieme. Abbiamo fatto, credo, tante cose in questo anno, nonostante tutte le difficoltà. CNA sta crescendo, stiamo presentando una serie oggi di attività e di iniziative, anche di supporto, di aiuto, di crescita, Ferrara Sviluppo, tutto il sistema che abbiamo creato attorno al sistema dell'edilizia. Queste che adesso rappresenteranno e racconteranno le ragazze di attività, che rappresentano un'unione di intenti, quindi lavorano fra di loro, creano fra di loro e le idee vengono e si sviluppano in questo modo. E' una cosa che abbiamo presentato anche nell'ultima sfilata. Nell'ultima sfilata è visto quale voglia, quale animo nel volere costruire, portare avanti un'idea e un'immagine di città e di artigianato che è fondamentale per tutti. Tra le varie iniziative oggi viene presentato il progetto EcoCid, su cui si vuole puntare molto e molto importante perché e ci spieghi anche di che cosa si tratta. EcoCid è un manifesto d'impresa, un manifesto d'impresa che abbiamo creato come CID, cioè CNA, impresa donna, come conseguenza di un percorso che abbiamo fatto in questi anni. Siamo stati insieme, siamo cresciuti, abbiamo fatto formazione, le nostre aziende hanno lavorato insieme, abbiamo deciso di trasformare questo nostro essere imprenditrici in una buona prassi da poter condividere con tutto il tessuto di CNA e con tutti gli imprenditori, siano essi uomini o donne. E adesso andiamo ad Argenta, verso un ospedale sicuro e sostenibile, 13 milioni e mezzo di investimenti dal PNRR. A breve al via i lavori del pronto soccorso e oggi c'è stata la conferenza di presentazione. Sentiamo. Partono a breve i primi lavori di adeguamento e riqualificazione del pronto soccorso di Argenta, finanziati per 1,1 milioni di euro con fondi ricompresi nel PNRR. La riqualificazione prevede la realizzazione di una nuova camera calda e della rampa dedicata all'accesso delle ambulanze, oltre a interventi sui percorsi interni e sugli spazi dedicati all'attesa. Dopo il trasferimento del pronto soccorso nel nuovo corpo, il fabbricato ristrutturato verrà destinato ad attività ambulatoriali diurne con la possibilità di accesso dedicato. Gli interventi strutturali si accompagnano alle dotazioni tecnologiche. È stata infatti acquisita una diagnostica radiologica portatile di pronto soccorso per un importo di 82 mila euro. Per quanto attiene la sperimentazione organizzativa legata al pronto soccorso, area e emergenza, è volta a migliorare la fluidità dei percorsi di presa in carico per i diversi codici di gravità. In pronto soccorso ad Argenta, ma anche negli altri ospedali, sarà infatti attivata la nuova figura infermieristica del Flow Manager. Si tratta di un professionista esperto di triage che ha il compito di ottimizzare il flusso dei pazienti, specie per quanto attiene il modello di risposta assistenziale alle urgenze minori. Si sta lavorando inoltre per la costruzione della funzione di bed management provinciale per migliorare la gestione dei posti letto nelle fasi di ricovero e di emissione. Sempre nei fondi targati PNRR, rientrano 11 milioni per la realizzazione di un nuovo padiglione con il duplice scopo di migliorare la sicurezza sismica e avere un padiglione green con limitato consumo energetico e di riorganizzare l'intero presidio ospedaliero. Per quello che riguarda le attività sanitarie, è stata posta la massima attenzione all'attività di chirurgia ambulatoriale che attualmente funziona a pieno regime. La pianificazione settimanale permette infatti di eseguire due sedute di chirurgia generale ambulatoriale, due sedute di iniezioni intravitreali, una seduta di endoscopia proctologica e due sedute di chirurgia dermatologica. Intanto rimanendo in ambito sanitario, si registra ancora una vittima nel ferrarese per Covid e i nuovi positivi scendono tuttavia sotto quota 100. Il servizio. Il Covid registra ancora una vittima nel ferrarese. Si tratta di un uomo di porto maggiore di 76 anni. I nuovi positivi sono 99 su 305 tamponi refertati a fronte di 91 persone guarite. La pressione negli ospedali vede 19 ricoverati al Sant'Anna di Cona, 14 al Delta di Lago Santo e 11 al Santissima Annunziata di Cento. A livello regionale sono 1.284 nuovi positivi su 9.080 tamponi a fronte di 1.298 guariti. 5 le vittime in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, mentre sono 20 le persone in terapia intensiva, di cui 3 nel ferrarese. Attualmente in regione sono 16.566 i malati di Covid, di cui 15.912 con sintomi lievi che non richiedono di cura ospedaliere. Appuntamento importante per domenica 18 settembre alle 10.30 presso la sinagoga di Via Mazzini 95 a Ferrara quando si terrà l'apertura ufficiale nazionale della 23esima giornata europea della cultura ebraica. La città estensa è quest'anno capofila nazionale delle celebrazioni della manifestazione coordinata e promossa in Italia dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, alla quale aderiscono 102 località da nord a sud fino alle isole. La cerimonia di apertura prevede i saluti istituzionali del presidente della Comunità Ebraica di Ferrara, Fortunato Arbib, del presidente del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano della Shoah di Ferrara, Dario Disegni, del prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri e ancora dell'assessore alla cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli e della presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Disegni. Dopo i saluti istituzionali nella sede di Via Mazzini si terrà la tavola rotonda e il rinnovamento nell'ebraismo Ferrara Italia-Europa. Introdurrà il rabbino capo di Ferrara Luciano Caro e seguiranno gli interventi di Giulio Busi dell'Università di Berlino, del giurista e vicepresidente Ucei Giulio Disegni, della studiosa Laura Graziani Secchieri, della direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano Gadi Luzzato Voghera e modererà Shemuel Lampronti. Adesso invece parliamo di un appuntamento per domani, quando torna al barco l'iniziativa chiamata Festa dei Vicini. Sentiamo di che si tratta. Un pomeriggio all'insegna della voglia di stare insieme dopo il lungo periodo della pandemia. La Festa dei Vicini torna ad animare il quartiere barco con una serie di iniziative in programma venerdì 16 settembre dalle 16 nel parco accanto alla biblioteca comunale Bassani di Via Grosoli 42. La festa, aperta liberamente a tutti i cittadini e le famiglie della città, è organizzata da Hacer Ferrara assieme al Comune di Ferrara e in collaborazione con Viva Barco Viva e una serie di altre realtà del territorio. Il programma e le finalità dell'iniziativa sono stati presentati nella residenza municipale dall'assessore comunale alle politiche abitative e politiche sociali Cristina Coletti, dalla vicepresidente di Hacer Ferrara Sabrina Cherubini, con la consigliera di Hacer Chiara Scaramagli e le funzionarie Serena Rosa e Angela Molossi. Nel sottolineare il valore di questa edizione della festa, particolarmente importante dopo la fase pandemica e con le sue restrizioni, l'assessore Coletti ha ringraziato la direzione di Hacer e tutto il personale che ha lavorato all'organizzazione dell'evento e che si adopererà con attività di volontariato per far sì che l'iniziativa diventi davvero un momento per ritrovare la gioia di frequentarsi e stare insieme. La festa rappresenta infatti solo una delle tante attività che l'azienda a casa svolge in accordo con l'amministrazione comunale per curare anche gli aspetti sociali e comunitari della gestione del patrimonio immobiliare pubblico e non solo quelli strettamente legati all'assegnazione dei 3.400 alloggi ERP di Ferrara. La festa si aprirà con l'accoglienza dei partecipanti e la distribuzione di gadget e delle cartelle della tombola. Seguiranno giochi di gruppo per bambini e ragazzi e l'appuntamento con Piccola Musica, percorso musicale per i piccolissimi e per i loro adulti del cuore a cura di Francesca Venturoli. In programma anche uno spettacolo di burattini e l'estrazione della tombola con la premiazione. In caso di maltempo la festa si svolgerà all'interno del centro sociale Il Barco. Anche quest'anno la festa sarà realizzata grazie al lavoro a titolo gratuito dei dipendenti Hacer che si occuperanno dell'allestimento e dell'accoglienza dei partecipanti. E parliamo adesso di calcio perché la SPAL ha comunicato di aver sottoscritto il primo contratto da sportivo professionista con Emanuele Rao, attaccante proveniente dal settore giovanile. Il giovane classe 2006 ha firmato un contratto con il club bianco-azzurro fino al 30 giugno 2025. Nato a Rovereto, Rao ha prodato la SPAL nell'estate del 2021 dopo aver svolto tutta la trafila del settore giovanile nel Chievo Verona. Attaccante esterno abile nell'uno contro uno e dalle grandi qualità balistiche, nella scorsa stagione ha giocato nell'Under 16 bianco-azzurra venendo in più occasione aggregato anche tra le fila della sezione Under 17. Compressivamente nei due campionati ha realizzato 20 marcature, tra cui una doppietta decisiva per il successo della SPAL Under 17 nel primo turno play-off contro il Lecce. Nella stagione attuale Rao è stato inserito nella rosa della primavera di mister Vito Grieco, con la quale ha già segnato una doppietta nella vittoria ottenuta contro il Pordenone nella prima giornata di campionato. E siamo così in chiusura del nostro TV giornale. Prima di chiudere vi ricordo i programmi della serata di Telestense. Alle 20 avremo il filo d'Arianna dove si parlerà di oculistica, meno file per gli interventi di Catalatta. E ancora alle 20.20 bonifica oggi con il titolo della puntata il consorzio al servizio delle imprese, mentre alle 21.10 torna l'edizione 2022 della Moda in Castello, la sfilata organizzata da CNA Ferrara. Siamo in chiusura quindi vi ricordo Telestense.it e i nostri canali social per queste e altre edizioni e quindi non mi rimane che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata. Grazie a tutti.